la papra si carica si porta avanti si ricarica si porta avanti si ricarica allora oggi abbiamo simulato un tratto piuttosto ripido che mette a dura prova la tenuta delle pelli e nel quale la maggior parte degli sci alpinisti fa ricorso ai coltelli dato che stiamo facendo un po un dibattito sentendo un po opinioni sull'uso di questi attrezzi abbiamo sentito che qualcuno è nettamente contrario qualcuno è favorevole qualcuno per una via di mezzo io devo dire che chi è abituato a far tenere le pelli anche in condizioni piuttosto estreme quando decide che non ce la fa più a tenere e ha bisogno di ricorrere a qualcos'altro tipo coltelli a quel punto è meglio se calza direttamente i ramponi ecco questa è un po la mia la mia idea dal momento che ho sempre dato massimo risalto all'apprendimento e alla cura delle sensazioni per fare sì che il proprio accettivo sia in grado di avvertire la tenuta delle pelli fino a delle pendenze piuttosto elevate oggi abbiamo anche fatto vedere come sia importantissimo se si vuole utilizzare solo le pelli l'utilizzo di bastoncini con la papera da fondo che permettono un grip e una tenuta verso valle oltre che la spinta ovviamente durante la pratica normale piuttosto elevata il bastoncino con la papera larga tradizionale rotonda è altrettanto valido ha il difetto che sul ripido tende a toccare prima la plastica e poi la punta in alcune condizioni di neve dure si rischia magari anche di una scivolata inavvertita c'è poi l'abitudine dettata da un'esigenza di sicurezza in caso di pericolo di valanga di impugnare il bastoncino a mezz'asta io non sono d'accordo e nemmeno Meraldi a quel che mi risulta è d'accordo su questa pratica in quanto impugnando il bastoncino a mezz'asta si rischia molto di perderlo per una banalità e che perdendo il bastone in certe situazioni si rischia di compromettere la gita sia per quanto riguarda la salita che per quanto riguarda la discesa dato che questa abitudine dettata soprattutto dal fatto di avere le mani immediatamente libere nel caso di essere travolti da una valanga io vorrei fare una premessa se si è nella situazione di pensare veramente di essere a rischio di valanga se non è possibile fare diversamente sarebbe meglio rinunciare alla gita e tornare indietro per avere invece le mani libere nel caso di uno stacco di valanga e non essere attorcigliati sotto la neve uno può immaginare che avendo i bastoncini impugnati sotto la neve con la forza che la neve il peso della neve si verrebbero subito spezzate le spalle e le braccia perché il bastoncino ovviamente rimarrebbe impigliato e trascinato dalla valanga noi facciamo vedere come consiglia giustamente Meraldi che si possono impugnare i laccioli solamente con le quattro dita lasciando il pollice fuori per cui si ha meno rischio di perdere il bastone per una qualsiasi banalità ma c'è la possibilità anche che si sfili nel caso che uno venga travolto da valanga questo è un po il nostro il nostro punto di vista poi per carità molti altri esperti altrettanto in grado di dare dei consigli possono pensarla diversamente questa è un po la nostra linea nel caso invece dobbiamo utilizzare i coltelli abbiamo fatto alcune prove in tratto ripido in cui si evidenzia come il coltello sia nel caso di un attacco di amir molto utilizzato sia nel caso di un attacco dinafit un attacchino altrettanto utilizzato dagli specialisti e dagli appassionati se noi montiamo il coltello con l'alzatacco al minimo allora abbiamo una certa tenuta le lame hanno una buona probabilità di entrare nella neve anche su terreni non perfettamente lisci se noi utilizziamo l'alzatacco a metà ecco che le lame già lavorano molto meno nei tratti di traversi piuttosto ripidi impegnativi praticamente lavora solo più la parte a monte del coltello quindi in questi casi è sufficiente un lieve avvallamento ecco che è come non avere i coltelli se poi abbiamo la pretesa di utilizzare i coltelli con l'alzatacco al massimo allora in questo caso è come se non li avessimo montati abbiamo l'illusione montando questi attrezzi di aver fatto qualcosa per la nostra sicurezza invece come se non avessimo niente fossimo solamente con le pelli allora in questi casi meglio saper far tenere bene le pelli piuttosto che ricorrere a questi artifici e questi attrezzi e soprattutto quando si arriva in certe situazioni al limite bisogna avere il coraggio e la responsabilità di staccare gli sci e calzare i ramponi ecco questa secondo noi è il massimo della sicurezza per certi terreni no danilo tu sei un coltore della pelle anche no stiamo parlando di coltelli o non coltelli sono sufficienti le pelli secondo te per uno alpinista con un'ottima tecnica fino a un limite dipendenza elevato riesce tranquillamente ad arrivare a pendenze forti ciò non toglie che però uno sci alpinista che si muovi un terreno magari più pericoloso o con forte esposizione la pelle e basta non avere in dotazione il rampone o rampant può essere veramente pericoloso ma tu dei due cosa preferiresti che mettesse questo sci alpinista il rampone o rampant il rampone io sono per salire al limite della pelle poi fermarsi calzare il rampone e muoversi con i ramponi e comunque sta sta alla coscienza dello sci alpinista alla consapevolezza dei propri limiti sapere qual è il momento in cui ci alzare i ramponi assolutamente sì perché se uno vuol forzare alla fine rischia rischia perché se poi arrivi su un traverso esposto dove è impossibile fermarsi e togliere le pelli diventa veramente pericoloso ma tu non credi che sia anche pericoloso se hai rampante estremamente pericoloso perché anche il rampant comunque ha bisogno di una certa praticità di utilizzare non è che con il rampant sei in una botta di ferro perché hai il rampant sei sicuramente più sicuro col rampone il rampanti crea una falsa sicurezza e tu credi che uno che abbia i rampanti nello zaino non riesca ad acquisire quella grande familiarità con la pelle poiché non imparerà lo sci alpinista che parte dalla macchina e al primo muro perché gelato mette il rampant non arriverà mai a sfruttare la pelle al giro dal giro franco maestrini un decano degli istruttori di sci alpinismo del cai di nembro conosciuto universalmente in tutto il bergamasco punto di riferimento è stato istruttore di pietro lanfranchi è vero gli facciamo una domanda i coltelli coltelli o non coltelli quando si fa sci alpinismo dunque i coltelli si deve sempre averli nello zaino prima cosa seconda cosa quando c'è una persona che ti accorgi subito essendo anche abbastanza dietro oppure girandoti a guardarla la vedi che ha paura fagli mettere il coltello perché sul neve dura sprecca energie inutili poi ci sono gente e è successo dirgli di mettere i coltelli e in venti mettono i coltelli uno non lo mette cinque minuti dopo va giù scivola lungo il pendio gli va bene perché non si fa male però è successo però diciamo per acquisire la sensibilità di far tenere le pelli che tu sei uno bravo a far tenere le pelli io ti ho visto personalmente se tu dalla minima difficoltà metti i coltelli perdi un po la possibilità di imparare questo qua questo qua e se si è in gita che hai un nucleo di gente insieme quello che vedi a un certo punto se c'è pendio ripido duro e roba del genere conviene consigliare di mettere i coltelli poi uno per prendere praticità a viaggiare senza coltelli su pendi ripidi deve prima cosa far aderire la pelle capire di mettere la pelle sul piano della neve che c'è perché se lavora sul spigolo non riuscirà mai ad andare avanti sì però se non si mette alla prova anche dove è difficile è difficile che possa avere poi fiducia nella sola pelle ma lì la fiducia la prendi se continui ad andare questo qua noi con le gite abbiamo un mucchio di gente che neve che viene a sci alpinismo non sono esperti quando li vedi a tribolari che sono su che tremano le gambe è meglio far metterli i rampanti prima di arrivare a quel livello ma tu i coltelli li metti solo raramente raramente li metto però se trovo se vedo duro che devo stare lì a tribolare conviene metterli che vai via ma il pizzo di petto in punta non li abbiamo messi non li abbiamo messi perché non correvano ti ha lavorato con gli scipiatti si lavorava con gli scipiatti eppure avendo le racchette che a te non ti va bene che non puntano che non tengono basta saper mettere giù le scipiatti sulla neve va bene adesso abbiamo anche il parere autorevole di franco maestrini grazie 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 franco come e questa risce male in effetti se riprendi un pendio ricco e poi andar su finché vuoi se li trovi la neve inventata che è dura conviene far metterli però se ci sono tutte quelle ondine che un po prende un po non prende uno si illude di essere sicuro ma guarda che le ondine non è che hai mezzo metro di lunghezza con un vuoto di 5 cm perché devi avere un metro di lunghezza con un vuoto di 5 cm per far sì che il rampante non tocchi poi la flessibilità dello uscì arriva giù un po cosa ne pensi allora dei dei coltelli ma spiegacela bene che ti sto filmando ah stai filmando il coltello praticamente viene utilizzato sempre non proprio correttamente in funzione a quello che è la sua funzionalità perché quando si va su un pendio quando si va su un pendio ghiacciato bisogna sempre tenere valutare tener presente e valutare bene la pendenza cioè tante volte ci si azzarda a fare delle pendenze elevate fino a 40 gradi qua dai 35 in su dove grazie al coltello si riescono a superare però a quel punto lì bisogna tener presente che nel caso di scivolata o di di perdita di equilibrio cioè non è che ci si può pensare di fermare cioè si arriva in fondo quindi ecco la pericolosità del coltello è proprio data da questo fattore qua cioè tenere sempre presente il fatto che il coltello si ti dà questa sicurezza di tenuta però non è totale quindi io dico che il coltello può andare bene quando le pelli non sono nuove non sono magari tagliate perfettamente ma se le pelli sono buone si potrebbe andare a superire quello che ha il coltello dopo chiaro coltello ti aiuta per quello che è la neve ghiacciata una tenuta superiore però bisogna abbinarle sempre la pelle al bastone chiaramente al tipo di sci tu sei favorevole al coltello completamente contrario io sono non è che sono completamente contrario chiaramente per un principiante il coltello aiuta però bisogna tenere sempre presente il grado di difficoltà che si va a fare cioè tantissimi sottovalutano questo fattore qua cioè superano delle pendenze veramente abbastanza sull'estremo però senza tenere tenere calcolato il fattore caduta se il calduto vuol dire scivolare cioè il coltello non è che ti può fermare arrivi fino in fondo anzi il coltello forse è la peggiore ancora perché ti fa superare certe pendenze allora a quel punto lì cosa fai col coltello se hai la pelle misurata la puoi utilizzare ma a un certo punto è meglio calzare i tamponi cioè però tu i coltelli non li hai mai usati io non li ho mai usati usi i ramponi quando si avevano pendenze estreme praticamente perfetto calzare i ramponi e di norma i tuoi i tuoi allievi cosa fai usare io li faccio usare fino 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 a un punto che io ritengo sicurezza di pendenza dove anche se uno case si può fermare lo stesso non per scivolata ma per gravità quindi sta fermo lì se si va invece su pendenza superiore il coltello bisogna tenere presente che non tiene non c'è no non è perché il coltello stai appeso il fattore scivolata può esserci comunque quindi ecco la pericolosità del coltello è proprio valutare le pendenze dopo si salgono pendi impressionanti si salga in cima al monte bianco voglia di sci senza pelle o con le pelli però ecco il principiante deve valutare bene questo fattore qua il fattore il fattore pericolo in caso di scivolata quello che tutti pensano invece che avendo il coltello il coltello ti dà questa sicurezza di poter superare le pendenze impossibili grazie 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 grazie